Un uomo di 84 anni, Barlettano, Francesco Stellatelli, è stato ucciso questa mattina attorno a mezzogiorno a Coltellate nella sua casa di Via delle Belle Arti, nella zona 167 a Barletta. Ad accoltellarlo, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe stato il figlio 45 anni, affetto anche da problemi psichici, e trovato sul posto coperto di sangue. L'anziano avrebbe provato anche a chiedere aiuto, prima telefonando al genere e poi uscendo sul pianerottolo di casa, al quarto piano della palazzina. Tentati vivani e da trovarlo sono stati i carabinieri allertati dai familiari, ma per l'84enne era ormai tardi, nonostante infatti l'arrivo sul posto del 118 non ha potuto che constatare soltanto il decesso. I sospetti sono subito ricaduti sul figlio della vittima, portato in caserma dai militari e successivamente arrestato. Il delitto sarebbe maturato al termine dell'ennesima lite con il genitore. Indagini affidate ai carabinieri con l'ausilio dei militari del reparto investigazioni scientifiche, oltre al magistrato di turno della procura di Trani.